Carabinieri del Comando Provinciale di Isernia e Nazione sull'intero territorio pentro al fine di tutelare la salute dei cittadini e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ambito di tali controlli i militari hanno eseguito un maxi sequestro di puntatori laser di tipo vietato, altamente nocivi per la vista qualora puntati agli occhi, di quelli spesso utilizzati durante partite di calcio o altre manifestazioni sportive. 200 i puntatori sequestrati presso due esercizi commerciali di Macchia di Isernia e Montaquila. I titolari delle due attività commerciali sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria. Stesso provvedimento anche per un imprenditore edile che non aveva ottemperato all'attuazione delle prescritte misure per garantire la sicurezza degli operai al fine di prevenire infortuni sul lavoro all'interno di un cantiere ubicato a Carovilli.